Buon angolo qui, ottimo angolo, non buono. Recuperare al più presto il break. Vizio dritto. E guarda, la palla si era quasi fermata, guarda Federer che va quasi in controtempo qua, si deve rifermare con il... Se ne manca. Ancora anche Emma. Bene, è uscito alla grande perché comunque Raonic... 40-0. Tutto facile per Raonic. No! Dritto devastante. Dopo il gioco, il primo Raonic, quello del 2011-2012. Ha avuto problemi fisici, ma pensavo era un giocatore che poteva continuare a... Si apre il campo. Facile. No! È riuscito con un grandissimo... Ancora in controbalzo, stavolta non trova... Comodo il contropiede. Si alta ma prende una curva importante, lo flyse è fondamentale per questa superficie. Ancora il contropiede. Ancora il contropiede. Boom! Questa era la seconda, eh. Al corpo. 5-4. Ace. Lunga la risposta di Raonic al primo set point. Questa finale a Stoccarda lo fa con il punteggio di 6 giochi a 4. Ottima la copertura della rete. Questa non si prende, 211 km. Siamo in volley. Molto bello lo smash. Non fa... Poi anche Federer sa servire... Ma vabbè. Questa è una magia. Anche Federer sa servire a velocità. Questa è andata bene al Canadese perché... Questa è andata bene al Canadese perché... Ace esterno. Altro ace. Da destra. Anche da fuori. Piange che è una bellezza. Infatti si è distratto, Raonic. No, non gli è convenuto piangere da dentro. Ti recupero qua. Eh beh. A forza dei stringi... No, no. No, no. No, no. Opa. Ma forza di accelerazione col dritto. E' giocato benissimo in questo periodo... Fallerà più o meno top 150, no? Si, se oggi vince il 151 ed è best ranking. Tanto volé di Raonic, 0-15. Il primo attacco difendere Questa è una parata Non so come vogliamo definirla Quanto ha risposto Raonic Demi vuole senza percorrere Qui al corpo non è andato Preferito andare al centro Previso il diritto dello Svizzero Eh sì è tutto ancora una volta Oltre una decina Invece adesso siamo a sei nel secondo E non sono tantissimi rispetto È troppo lento Troppo lento Raonic Questa è una gran risposta In allungo Dimende con lei Meglio questa di voler Altro serve in volle Niente male Risposta aggressiva di Raonic Federer non E adesso anche di annullarlo E si va a tie perché Questa è una signora risposta Devastante Il rovescio lungolino Tre pari Si cambia Riga piena Trovata da Federer E il passante col diritto Da parte di Roger Federer Sul nastro Il diritto di Milo Straonic Roger Federer Fa 98 E viene distoccata Battendo per l'undicesima volta Suzione mondiale Con il primo trionfo Alla Mercedes Cup Grazie a tutti